benvenuti a tutti in questo corso intensivo di html in cui andremo a fare prima una breve panoramica spiegando quelle che sono le motivazioni l'utilità lo scopo dell'html all'interno dello sviluppo web e poi andremo a vedere nella pratica come possiamo utilizzare questo linguaggio svilupperemo la nostra prima pagina web insieme e impareremo ad utilizzare l'html partendo subito con l'introduzione andiamo a vedere quelli che sono i requisiti per poter iniziare ad apprendere e comprendere soprattutto l'html requisiti sono molto semplici nessuno non serve nessun requisito proprio perché l'html è il punto di partenza non c'è veramente a livello tecnico e di competenze un qualcosa che devo sapere che mi è fondamentale per poter apprendere l'html e questo è proprio un corso per principianti per chi praticamente non ha veramente mai scritto una riga di codice e vorrebbe approcciarsi al mondo della programmazione con un indirizzo allo sviluppo web l'unico vero requisito che se vogliamo esiste e sussiste è una propensione personale allo studio e soprattutto all'approfondimento perché sì non ci sono dei prerequisiti a livello tecnico e di competenze per andare ad apprendere l'html ma andare ad informarsi e comprendere come funziona il web come composto come funziona soprattutto internet in generale può sicuramente aiutarci a comprendere meglio alcune dinamiche così come esercitarsi anche al di fuori di questo tutorial guardando altro materiale cercando degli esercizietti che si possono fare questo ci può sicuramente facilitare in quel processo di memorizzazione se dovessi fare delle considerazioni personali e il mio invito è quello di non essere passivo cioè non fermarsi a guardare e basta provare cercando di seguire quelli che sono i miei passaggi a realizzare le stesse cose anzi a realizzarle meglio se proprio dovessi darvi un consiglio soprattutto non mettetevi in questo momento all'inizio a fare solo del mero copia e incolla perché io vi fornirò il codice che andrò a scrivere fare in modo che voi siate in grado di recuperare questo codice ma mi raccomando non fate copia incolla cercate di capire che cosa stia realmente succedendo un ultimo invito che vi do io e quello di fare domande qualsiasi cosa poi non capiate fate domande nei commenti e soprattutto aiutate tutti gli altri studenti e altre persone che commenteranno all'interno di questo video qualora poi le cose non riuscissero al primo tentativo siate pazienti non è non è un corso da cinque minuti ci vuole pazienza si può seguire spezzettandolo se le cose non succedono non funzionano subito non preoccupatevi è normalissimo in questo corso nello specifico parleremo solo di html tutte le tecnologie successive avranno dei video parte questo perché ho preferito e preferisco parlare di un unico argomento in un unico in un unico video perché è più semplice e ci porta a non fare un minestrone di tanti concetti che alla cartella in cui potrete trovare tutto questo codice potrete scaricarlo accedervi farci quello che volete copiare incollare vi fornirò tutto non preoccupatevi dovrete tutto in descrizione andiamo ora a parlare del perché imparare l'html è così importante soprattutto perché costituisce un punto di partenza sicuramente l'html ci mette nella posizione di iniziare a comprendere come funziona davvero il web come è organizzato e come si interagisce con esso questo è un aspetto molto importante non solo per lo sviluppo web ma anche per qualsiasi tipo di business che che uno abbia online comprendere il funzionamento del web e soprattutto di internet può aiutarci a prendere delle scelte più consapevoli in futuro ma anche a realizzarne realizzare alcuni aspetti direttamente in prima persona o comunque comprendere un po meglio quello che altre persone ci stanno dicendo riguardo alcuni aspetti del nostro business un secondo buon motivo è per iniziare il proprio percorso all'interno dello sviluppo web che non vuol dire solo essere sviluppatore ci sono tanti modi di essere sviluppatore tante cose che si possono sviluppare tanti linguaggi tante posizioni all'interno del medesimo settore e tante figure che scrivono nel medesimo linguaggio e quindi iniziare a comprendere e entrare all'interno di di questo mondo ci permette di iniziare a valutare quale tipo di carriera intraprendere magari vediamo che il nostro campo principale che più ci attrae è quello del design diventare un web designer e allora poi ci faremo una svolta verso quella direzione oppure vedremo che sviluppare interfacce è la nostra passione e allora andremo a seguire quel percorso oppure vorremmo iniziare a lavorare sul lato server e allora andremo a intraprendere un altro percorso sceglieremo altri linguaggi creeremo un percorso di studi adatto a quelli che sono i nostri interessi vogliamo sviluppare solo per ios o unicamente per android e allora andremo a lavorare in quella direzione sicuramente l'html è il punto di partenza perché fondamentale per utilizzare tutte le tecnologie moderne sia che uno vada a realizzare facebook o la propria applicazione la propria prima applicazione entrambe utilizzano l'html non non si scampa da da questo linguaggio sia che uno guardi da proprio iphone sia che lo guardi del proprio huawei si è quello guardi del proprio oppo si è quello guardi dal suo galaxy fold si è quello guardi dal suo computer si sia che sul suo computer ci sia linux che ci sia windows che ci sia ubuntu che ci sia quello che che uno preferisce che sia su su mac insomma come vedete questo questo linguaggio è praticamente è praticamente ovunque proprio essendo esso ovunque è un requisito fondamentale per tutte le figure all'interno dello sviluppo web tutti coloro che sono web developer sia che lavorino sul lato server sia che lavorino sul lato client entrambi devono conoscere per forza questo linguaggio ma che cosa è è esattamente l'html html altro non vuol dire che hypertext markup language che tradotto è un linguaggio di marcatura nello specifico un linguaggio di marcatura dichiarativo questo perché perché non è un vero linguaggio di programmazione e si definisce dichiarativo a differenza di quelli imperativi un linguaggio dichiarativo è un linguaggio che è privo di logica al suo interno logica algoritmica logica matematica comunque non sono presenti for cicli loop while insomma è privo di qualsiasi tipo di logica chiamiamola matematica e algoritmica e questo lo fa differire da un linguaggio imperativo la differenza sostanziale diciamo parlando un po come si mangia che in un linguaggio imperativo sono io sviluppatore che devo andare a definire come funziona quel specifico elemento quella specifica funzione che sto andando a sviluppare mentre in un linguaggio dichiarativo io non ho il bisogno di definire come queste cose funzionino mi basterà dire che voglio quel determinato elemento quella determinata cosa e la otterrò direttamente senza avere bisogno di sapere come quella cosa funzioni questa è diciamo la differenza principale riassunta in in poche parole è definito di marcatura perché viene utilizzato per descrivere e definire quella che l'organizzazione di una pagina web ovvero dire che cosa è un titolo che cosa è un paragrafo che cosa è un immagine insomma come viene organizzata proprio la nostra pagina web che altro non è in realtà che una pagina di testo quello che lo differenzia è proprio l'html che ne definisce l'organizzazione e permette di creare dei link dei collegamenti tra una pagina e l'altra questo collegamento è chiamato hypertext l'hypertext altro non è che il collegamento tra più pagine di testo e questo le trasforma in una pagina web l'html è un linguaggio multipiettaforma ovvero non funziona solo su un dispositivo o funziona su un dispositivo in una maniera su un altro dispositivo in un'altra no questo non succede perché è il browser dell'utente che interpreta le indicazioni che noi diamo della nostra pagina web questo vale sia per computer schermi tv telefoni il tablet apple watch tutto quanto si occupa di interpretare e viene interpretato nella stessa maniera perché è standardizzato esiste un consorzio che si chiama v3c che è composto dai principali delle principali università dei principali chiamoli così giganti del web come vengono definite ma ci sono anche altre figure ci sono anche altre organizzazioni all'interno di questo consorzio che si occupano di coordinare quello che è questo linguaggio il modo in cui esso viene interpretato proprio per garantire che su tutti i dispositivi su tutte le piattaforme esso venga interpretato nella stessa maniera ultimo punto l'html non è l'unico elemento sufficiente a creare delle vere e proprie pagine web o applicazioni ma si appoggia e necessita di altre due tecnologie che sono il css che si occupa di gestire e stilizzare la nostra pagina web perché noi con l'html non saremo in grado di stilizzare saremo solo in grado di informare la nostra pagina web di dell'ordine e del tipo di contenuto da mostrare ma non saremo in grado ad esempio di dirgli di mostrarlo in orizzontale piuttosto che in verticale ad esempio dopodiché abbiamo javascript che si occupa di tutto quell'aspetto di interazione ovvero far sì che premendo un determinato bottone avvenga con determinata funzione come magari che cambi da light mode a dark mode quello javascript che si occupa di gestire quegli eventi rendere la nostra applicazione interattiva può coordinare anche animazioni eliminazioni di alcuni elementi nella pagina comunque si occupa di gestire quella che è l'interazione dell'utente con la nostra la nostra applicazione o pagina web quindi sottolineando il concetto fondamentale dell'html la prima parte ht sta proprio per hypertext l'hypertext è un concetto fondamentale all'interno di internet è detto in maniera molto 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 banale perché internet altro non è che un insieme di pagine di testo che sono connesse tra di loro l'html e link permettono sono alla base proprio di questo meccanismo che permette a noi utenti di navigare all'interno di questi contenuti e muoversi in maniera rapida tra testi immagini video applicazioni avendo ben presente cosa succeda e riuscendo a cercare e a trovare soprattutto quello che noi vogliamo ed è proprio qui che utilizzando un linguaggio di markup noi siamo in grado di dare indicazioni al browser che utilizzerà poi l'utente di come sarà organizzato l'ordine la gerarchia degli elementi che devono essere poi mostrati al nostro utente finale una cosa molto importante e che non esistono delle regole che ti obbligano a disegnare descrivere e organizzare una pagina in una maniera piuttosto che in un'altra ognuno è liberissimo di fare organizzare la pagina come gli pare e piace ci sono però alcune cose che tendenzialmente sono sono standard ecco tendenzialmente la prima cosa che si incontra all'interno di una pagina web è un'intestazione o un header che contiene informazioni che noi andiamo a dare al nostro browser per diciamo categorizzare al meglio la nostra applicazione quindi magari il titoletto che vedete in alto sulla sulla pagina in che lingue di che lingua stiamo parlando che tipo di caratteri stiamo utilizzando la descrizione l'autore del sito insomma ci sono tutta questa serie di informazioni all'interno di questo elemento dopodiché abbiamo una zona dedicata alla navigazione quindi dove abbiamo magari il luogo con i link della pagina un tastino per aprire una barra laterale tutto ciò che è utile all'utente per navigare all'interno della nostra applicazione e creare dei collegamenti il famoso hypertext tra una pagina e l'altra dopodiché troviamo tendenzialmente tre elementi principali il main che è una zona che contiene quello che è il nostro main content il contenuto principale della nostra applicazione quindi simuliamo di star parlando di un blog all'interno del main troveremo quelli che una sezione con gli articoli ogni articolo avrà la sua immagine del testo un titolo e questo sarà il contenuto della nostra applicazione barra pagina web dopodiché abbiamo una side che è un elemento che diciamo a parte rispetto al nostro contenuto principale che magari contiene articoli correlati le ultime novità informazioni sull'autore sulla compagnia al volo quindi contiene tutte quelle informazioni che sono collegate o comunque relativamente collegate alla pagina alla pagina web magari anche a tutta la nostra a tutto il nostro sito immaginate che uno navichi la side possa essere sempre lo stesso che mantiene le ultime novità l'ultimo articolo uscito ad esempio e l'ultimo elemento ma non per importanza che troviamo spesso quasi sempre all'interno di una pagina web un sito un'applicazione e il footer che rappresenta forse la parte un pochino più istituzionale della nostra pagina perché all'interno di questo troveremo quella che può essere una mappa di navigazione oppure link e informazioni aggiuntive ad esempio la classica fa che si trova al fondo la sezione dei contatti il classico bannerino con tutti i social che ha l'azienda il creatore il sito il blogger chi più ne ha più ne metta e viene spesso collocato al fondo dell'applicazione quella che voi vedete qua è un'organizzazione standard ma standard lo dico io perché ne ho visti tanti e tendenzialmente comunque rappresentano questo tipo di organizzazione però ripeto non c'è nessuna regola che dica che debba essere così ma noi come possiamo indicare alla nostra pagina web come essa sia organizzata utilizzando quelli che sono gli elementi fondamentali dell'html l'html si serve di tag che sono rigorosamente in inglese non è discutibile questa cosa e utilizzando questi specifici tag noi andiamo a replicare quello che questo tipo di organizzazione grazie a questi tag come vedete abbiamo un header abbiamo un nav che rappresenterà la barra di navigazione la zona della navigazione il main che contiene delle sezioni che hanno un articolo ogni articolo a un immagine sotto l'immagine c'è un paragrafo e via e via dicendo la side altro tag il footer è un altro tag ed è bene ricordarlo che l'html è appunto un linguaggio dichiarativo dove non ho bisogno in nessuna maniera di capire di spiegare e di dire all'applicazione al sito alla nostra pagina di come il nostro tag img che rappresenta in maniera molto intuitiva un'immagine faccia a mostrare la mia immagine inserendo il tag img io sarò in grado di posizionare lì un'immagine non ho nessun bisogno di sapere come il tag pi faccia a mostrare il testo che inserisco all'interno di come questo avvenga e basterà posizionare p con del testo all'interno e questo accadrà se dovessimo fare un mega riassunto di quello che è la funzione di questi tag ci aiutano e dell'html quindi in generale è quello di definire dire e dichiarare che cosa sia contenitore e che cosa sia contenuto e come questo viene ordinato all'interno della nostra pagina se c'è prima un'immagine e poi un testo e l'html che comunica alla pagina web questo se c'è prima il paragrafo poi il titolo poi l'immagine poi sotto un'altra immagine questo si può fare solo con l'html e compito dell'html dire al browser alla nostra pagina web che cosa e in che ordine questo deve essere mostrato ma prima di immergerci all'interno dell'html abbiamo bisogno di un editor per il nostro codice io quello che vi consiglio che io utilizzerò e visual studio code ce ne sono molti altri come atom.io e sublime text io ve li lascerò oppure bracket vi lascerò tutti in in descrizione e voi poi sceglierete quello che più vi piace vi consiglio visual studio code non confondetelo con solo visual studio fa parte della stessa famiglia però serve per fare tutta un'altra serie di cose per scaricarlo vi basterà andare sul link vi lascerò in descrizione lui automaticamente rileverà quale versione scaricare voi la scaricherete e la installerete e installare questa roba sarà semplicemente semplicissimo il basterà appunto downloadare vi porterà a questa pagina lo scaricherete poi lo avvierete seguirete il processo di download ed installazione ma passiamo finalmente al nostro html ma come possiamo creare il nostro primo documento html ma in generale un documento html andiamo a creare un documento di testo che chiameremo testo facciamo così questo dot txt lo apriamo con il blocco note e scriviamo primo scriviamo primo testo zoom un po dovrebbe essere più carino così vado a salvare con contro s da mac comand s e come vedete viene visto proprio come un documento di testo se io andassi a copiare e incollare questo documento di nuovo qua e invece di chiamarlo in questa maniera lo rinominassi txt testo punto mp3 come vedete mi viene segnalato come un mp3 allora io andassi a copiare questo elemento ancora una volta e lo andassi a incollare e questa volta lo chiamassi punto mp4 otterrei questa volta un file video nella stessa maniera posso andare a prendere il mio documento testo e salvarlo salva con come come testo punto html però sul mio desktop che mi avrà messo su un altro monitor a dispetto esattamente ecco qua il nostro testo punto html quando andrò ad aprire file con questa estensione mi verrà chiesto con cosa lo voglio aprire ed è qua che arriva il nostro secondo requisito ovvero avere un browser possa utilizzare quello che vogliamo vi prego vi supplico per quanto possa utilizzarlo non utilizzate internet explorer tutti gli altri vanno benissimo io utilizzerò chrome perché ha una serie di elementi che ci aiutano molto con il nostro sviluppo ci aiuteranno molto con il nostro con il nostro sviluppo e come vedete ci viene aperto questo file come testo punto html con il percorso del nostro file e in questo momento stiamo aprendo la nostra primissima pagina web vado a eliminare questa roba qua che non ci serve assolutamente a a nulla ho sbagliato mantengo il mio testo punto html è una cosa che posso fare per avere un pochino più di ordine e che era una bella cartella e chiamarlo prima primo sito posso chiudere al momento questa finestra posso inserire all'interno di primo sito e in questo modo posso andare ad aprire la mia cartella con il mio visual studio contro come faccio a provvise lo studio pod gli chiedo di aprire una nuova finestra è semplicemente andrò a trascinare la mia cartella all'interno di visual studio code e come vedete ottengo qua il mio bel testo html che risulta semplicemente essere un testo un qualcosa che ci può aiutare nel nostro sviluppo e che c'è dato da video studio code e l'utilizzo di alcune estensioni le estensioni permettono al nostro al nostro visore studio code di avere delle funzioni in più che ci possono veramente aiutare quelle che io vi consiglio e live server che vi permette di lanciare direttamente la vostra applicazione sul browser e di aggiornarla in automatico ogni volta che voi andrete a salvare un file e in questo momento anche autori name tag che vi permetterà di avere delle funzioni avanzate nello sviluppo del vostro html nella scrittura soprattutto nella correzione del vostro html vi lascerò comunque queste due estensioni in descrizione ma torniamo al nostro testo html innanzitutto la prima cosa da dire che per convenzione questo file non si chiama testo html ma va rinominato e tendenzialmente è sempre nominato index.html questo perché index rappresenta sempre la pagina d'entrata di un sito la home page non si chiama mai home page ma si chiama index.html andando ad utilizzare il nostro live server premiamo su tanto zoomiamo premiamo su non pretty su go live e come vedete ci dirà che abbiamo lanciato il nostro server cielo aprirà sul nostro bel pc io lo metterò qua di lato e quando avrà voglia di ridimensionarsi giusto non lo potremo utilizzare ok ci siamo abbiamo tutto pronto e possiamo finalmente iniziare siamo finalmente pronti per scrivere il nostro primo html andiamo a cancellare il nostro primo testo come vedete una pena modifico il file sbuca questo pallino che mi segnala che il file non è modifica e modificato e non ancora stato salvato al salvarsi di questo file noi andremo ad avere un aggiornamento automatico del nostro della nostra pagina al momento non accadrà perché dovremo prima aver scritto alcuni tag per far sì che questo accada quindi all'inizio faremo un reload manuale del nostro della nostra pagina web e zoom al 300 per cento in modo che si veda il più possibile gigantesco ma andiamo a scrivere un po di html ea capire come funziona andando a scrivere ad esempio ciao sono un titolo andando a capo e scrivendo ciao sono un bel paragrafo e andando a salvare come vedete lui ce lo riallinea e abbiamo tutto in linea non va a capo nonostante io comunque voglia andare a capo questo non mi viene permesso questo perché perché io devo iniziare a dire che cosa è un titolo e che cosa è un paragrafo quindi io posso andare a definire che questo è un titolo aprendo il tag title e inserendo all'interno di questo tag che inizia con un simbolo di minore e si conclude con un simbolo di maggiore seguito poi da la stessa scrittura con con questa con questo simbolo con questa barra che indica che il tag title inizia in questo punto e si conclude in quest'altro punto quindi sposto ciao sono un titolo salvo e come vedete andando ad aggiornare questa pagina non avrò più qua sopra quella scritta orribile ma avrò ciao sono un titolo e quindi in questo momento la nostra pagina ha veramente il suo titolo se volessi semplicemente andare a avere un titolo bello grosso utilizzo il tag h1 che rappresenta quello che è un heading quindi un'intestazione detto in italiano in cui metterò sono una intestazione e vedete come questo cambia lui va a capo ovviamente perché non ha lo spazio per stare su una sola riga se non starebbe su una sola riga questo è fondamentale e come vedete adesso le cose vanno veramente a capo cioè se io andassi ad espandere lo schermo vedete che ciao sono un bel paragrafo non va sulla stessa linea del mio del mio h1 e anche per paragrafo posso andare a dargli una definizione quindi invece di essere ciao sono un bel paragrafo sarà p con dentro ciao sono un bel paragrafo e adesso estremamente non cambia niente ma li stiamo dando indicazioni alla nostra pagina web che questo è un titolo questa è un'intestazione e questo è un paragrafo ricordatevi che lo scopo della html si di organizzare l'ordine ma anche di fornire informazioni al nostro browser di come questi elementi vengono mostrati di come devono essere buttati e che cosa questi sono ovviamente io non ho solo h1 ma ho anche h2 come vedete questa qua è la nostra estensione auto renaming tag che ci permette di correggere e modificare un intero tag modificandone solo una parte h2 diventerebbe poi così più piccolo h3 più piccolo fino a diciamo h6 che è il tipo di titolo più più piccolo tendenzialmente molto semplice è molto frequente vedere una roba del genere sono intestazione poi magari h3 con sono un sottotitolo non va a salvare fa un reload della sua pagina e c'è sono una intestazione sono un sottotitolo ciao sono un bel paragrafo quindi noi stiamo fornendo delle informazioni al nostro browser tendenzialmente noi abbiamo bisogno di informare non sa questo browser di molte cose e possiamo farlo e più informazioni forniamo più la nostra pagina verrà mostrata nella maniera corretta sicuramente la prima cosa che troverete in tutti i file html e questa scritta doc type html che sta con il punto esclamativo che altro non vuol dire che noi stiamo scrivendo in html 5 questo perché perché html ovviamente ha avuto diverse versioni e l'ultima rilasciata e l'html 5 quindi questo tag serve a dire al nostro browser che è gli amico stiamo scrivendo dell'html 5 abbiamo altri tag che possiamo utilizzare per dare ulteriori informazioni che sono i tag meta che a la differenza degli altri tag vengono chiusi direttamente alla loro apertura perché quello che non interessa non è scriverci all'interno ma utilizzare quelli che sono i suoi attributi ovvero ad esempio name in cui si descrive che cosa che informazioni vogliamo dare e magari il primo è descrizione e content il contenuto questo il mio primo sito questa è una breve descrizione del nostro sito poi posso avere ancora un tag meta che ha di nuovo name uguale out content hpp for learning andiamo a chiudere questo tag e magari ne abbiamo ancora uno che potrebbe essere meta scusatemi name uguale keywords content una serie di elementi che sono presenti con frequenza sulla vostra pagina quello di cui parla la vostra pagina sono una intestazione del paragrafo sottotitolo e vado a chiudere questo anche questo tag vado a salvare la pagina come vedete di per sé non è cambiato veramente niente ma queste informazioni ci permettono di facilitare il fatto che la nostra il nostro sito la nostra pagina venga trovato perché ovviamente nel web non ci siamo solo noi e quindi dobbiamo dare informazioni al nostro browser di quando trovarci perché trovarci in base a quali parole trovarci e di che cosa parla il nostro la nostra pagina in modo che lui la mostri a qualcuno che stia cercando effettivamente quel risultato ma in questo momento come vedete la nostra organizzazione è molto confusionaria e non capiamo molto bene quelli che sono i nostri contenuti principali cosa è l'intestazione cosa non è intestazione cosa è una parte cosa c'è in fondo dobbiamo andare a organizzare meglio il nostro codice il primo tag per fare questo è proprio il codice ht il tag html che viene utilizzato per contenere praticamente l'intera applicazione quindi spostiamo qua sotto per spostare le cose in visual studio code vi basterà ve lo dico da windows tenere premuto alt e muoversi con le freccette alte le freccette vi spostate rispostate su e giù con l'elemento da voi selezionato sia che siate al fondo che all'inizio un'altra cosa molto importante al volo diviso lo studio che anche qualora voi copiaste senza selezionare l'elemento quindi si mettersi qua premessi contro il c o contro l'x come vedete lui taglia senza che io evidenzi tutto contro il z torno indietro contro shift z vado di nuovo avanti con torniamo indietro e se premessi contro v come vedete ho copiato questa roba se andassi a incollare ottengo tre ciao sono un bel paragrafo ma tornando all'organizzazione della nostra pagina non dobbiamo andare a organizzare questa pagina il primo tag che si utilizza è proprio html a cui possiamo passare un attributo chiamato leg che serve a definire quella che è la lingua del nostro della nostra pagina questo è utilizzato per dare indicazioni magari appunto abbiamo dei caratteri particolari che sono presenti solo in italiano e vengono mostrati per risolvere anche questo problema si utilizza un altro tag meta che è chiamato charset che si utilizza tendenzialmente utf 8 e si utilizza per dare indicazioni appunto della tipologia di codifica dei caratteri che state utilizzando ovviamente i caratteri giapponesi o i caratteri piuttosto arabi o piuttosto quelli diciamo delle lingue latine differiscono e hanno alcuni elementi che non sono comuni ovviamente a noi non serve poter leggere tutti i caratteri cinesi non ne abbiamo solamente bisogno quindi utilizzeremo un altro schema di codifica questo non vi sembrerà così intuitivo immediato ma è molto importante dopodiché tutta questa serie di informazioni come il titolo e tutti i nostri tag meta vanno e vengono spesso chiusi all'interno del tag ed che rappresenta un po quella che è l'intestazione in generale della nostra pagina che dà informazioni principalmente al browser più che all'utente sulla nostra sulla nostra pagina web posso chiudere anche questa roba tanto al momento non ci serve così abbiamo tutto più chiaro ed si occupa di dare informazioni alla nostra pagina dopo di che abbiamo il body e il body contiene il corpo della nostra della nostra pagina da questo momento dovremo essere in grado di aggiornare in automatico il nostro la nostra pagina perché permette di essere aggiornati in automatico una volta che ne abbiamo un'impostazione di questo tipo quindi html e body tag da questo momento ogni volta che noi salveremo come vedete adesso io vado a chiudere salvo e verrà aggiornato in automatico tutto un altro mondo quindi in questo momento come potete vedere abbiamo un'organizzazione un pochino più ordinata magari aggiungendo un po di spazi diventa ancora tutto più più ordinato vedete abbiamo la nostra intestazione il nostro corpo tutto racchiuso all'interno del nostro html però possiamo fare ancora ancora meglio quindi all'interno del nostro body possiamo andare a dire che abbiamo un header cui invece di avere sono un'intestazione abbiamo il mio blog ad esempio vado a salvare adesso io ho il mio blog e so che fa parte dell'intestazione qua posso andare a posizionare un tag nav che serve diciamo a indicare che questo sarà un elemento di navigazione e io all'interno vado a posizionare un tag che si chiama ul che vuol dire un order list ovvero una lista non ordinata in cui all'interno posso inserire un tag l list item elemento della lista in cui posso inserire ad esempio home poi lo vado a copiare contatti contatti out ecco vedete ottengo questo tipo di schermata questo di risultato perché di schermata questo è dato proprio dal fatto di essere in un an order list non c'entra niente il nab se io andassi qua a posizionare invece che uno l un o l quindi order list otterrei 1 2 3 questa è la differenza tra queste due tra queste due liste come vedete questo è molto comodo ovviamente posso andare a avere più a nord dell'istessio quando sia a copiarne magari un'altra e avessi qua mettessi qua un altro heading con h5 ingredienti corretto sale pepe uovo queste liste diventano molto comode per fare cose di questo tipo non diventano veramente descrittivi di quello che che stiamo che stiamo facendo togliamo questa roba che non ci serve e procediamo con lo sviluppo della nostra prima pagina web come vedete noi non siamo in grado solo con html di poter organizzare a livello stilistico questa roba per fare questo avremo bisogno di utilizzare il css cosa che noi al momento non possiamo utilizzare perché parleremo solo unicamente di html ma possiamo descrivere quello che è l'ordine degli elementi e soprattutto la loro organizzazione se io qua non mettessi il nav ok e avessi solo l non cambierebbe assolutamente niente ma il browser non saprebbe che questo è un elemento di navigazione che quindi è allo scopo alla funzione di portare da altre parti da altre pagine all'interno del mio blog cosa che vedremo successivamente al momento accontentiamoci di questo di questo semplice schema il concetto importante è che l'html è una sintassi non ci fa ottenere praticamente niente non è che se non c'è il nav uno non naviga da un'altra parte ma serve a dare indicazioni al browser di questo più io organizzo in maniera corretta la sintassi html più il mio browser sa come mostrare i contenuti qual è il loro scopo meglio questi contenuti sono organizzati e descritti più google è felice più google è felice più il mio sito sarà posizionato in alto nella ricerca detto in maniera molto brutta no ci sono molti elementi che influenzano la posizione del proprio sito della propria pagina su google ma questo sicuramente è uno dei principali a questo punto andiamo a inserire il nostro contenuto all'interno del nostro main per definire che semplicemente questi sono il contenuto principale della nostra pagina non cambia niente ma adesso il nostro browser sa che questo è il nostro contenuto principale ma magari noi vogliamo far sì che questi siano due articoli che sono all'interno di una sezione quindi diremo che questa è una sezione in cui all'interno noi abbiamo due articoli article article come vedete al momento continua a non cambiare assolutamente niente ma la mia pagina è molto meglio organizzata so che ho delle informazioni che stavano a descrivere meglio quello che il mio sito qual è il suo scopo di cosa parla e quali sono i contenuti a un titolo ciao sono un titolo magari quello chiamiamo il primo blog primo blog a un corpo all'interno del corpo abbiamo leader che è in blog una zona di navigazione destinata a spostarmi da una parte all'altra e che il contenuto principale del mio blog di questa mia pagina è una sezione con dentro due articoli io magari voglio che questo articolo magari sia un pochino più sensato e quello che posso fare e ottenere magari del corpo testo un pochino più spesso e per fare questo mi basterà scrivere lorem e il numero di parole che voglio mi fornirà un numero di parole in latino esattamente corrispondente a quello che gli ho indicato questo non è un qualcosa di non bisogna fare niente per ottenere questa funzione è una funzione di visual studio code e questo serve per vedere del testo fantoccio per immaginare la lunghezza appunto di di un eventuale paragrafo che contenga quel numero esatto di parole quindi molto molto utile e ci risparmi un sacco di tempo dovremmo magari distinguere un pochino meglio quelli che sono i nostri articoli innanzitutto vorremmo magari provare a mettere in evidenza alcune parole quindi magari sed corporis per noi è una parte importante e vogliamo che sia in maiuscolo e posso farlo utilizzando il tag strong vedete diventa maiuscolo o il tag b bold questo vi fa capire perché poi anche quando se vostri editor di testo che sia foglio google documenti google c'è scritto b per metterlo in maiuscolo si mettessi come nel mio incredibile editor di foglio google diventerà italic quindi corsivo si mettessi immaginate cosa viene fuori underline ma la differenza tra b e strong e che vi è semplicemente che il contenuto è in corsivo strong che è in forte relazione con quelli che sono le mie parole chiavi e una parola molto importante all'interno del mio della mia pagina ok quindi ha un valore molto importante potrebbe essere uno dei termini per cui trovare la mia pagina web attenzione però a utilizzare questo in maniera sensata perché il nostro amico e nemico google sa riconoscere molto bene quando uno sta riempendo la sua pagina di strong tag per barare cercare di comprare in alto se ne accorge e di penalizza quindi deve essere veramente 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 veritiero l'utilizzo di questo tag strong un'altra cosa che possiamo fare è dire che questa è una citazione quindi direttamente site incolliamo questa roba e come vedete questo cambierà e diventerà un po entra italico obliquo più che italico e questo farà capire che è una citazione comunque magari fa parte di di un discorso all'interno di quello che è il nostro paragrafo ma se volessimo aggiungere magari appunto un titolo e un sottotitolo magari possiamo dire che vogliamo qua un altro h1 con titolo 1 h2 titolo sottotitolo sottotitolo andiamo a replicare lo stesso tipo di schema all'interno del secondo paragrafo e però come come vedete io ho già un h1 se qua andassi magari a dire che come h2 o blog di articoli in cui io ho questa questa impostazione è diventa abbastanza confusionario e devo dire alla mia pagina che cosa sia veramente un titolo di intestazione e che cosa non lo sia questo perché perché i tag h1 h2 sono fondamentali anch'essi all'interno della della ricerca e del trovare e del mostrare la mia pagina se io non vado a dire che cosa è veramente parte dell'intestazione quindi deve essere titolo principale e che cosa magari svolge il fatto di essere un titolo principale ma all'interno di appunto magari un articolo quindi in maniera minore non rappresenta tutta la pagina ma descrive magari in maniera accurata e titolo e sottitolo di un articolo di un concetto minore avrò di nuovo risultato negativo non sarà di nuovo posizionante ma sarà darà un risultato negativo per per google e io quindi ho bisogno di differenziare ciò che rappresenta magari l'h1 e l'h2 che descrive la mia intera pagina web da quelli che sono magari degli acro degli h2 che sono si descrittivi e molto importanti ma vanno a contestualizzare quello che magari il titolo del sottitolo magari di un singolo articolo come in questo semplice caso e per fare questo si utilizza il tag dell'h age group cui si inseriscono questi valori ovviamente questo non continua a non portare nessun cambiamento a livello visivo della nostra applicazione ma va proprio a organizzare ancora meglio il nostro la nostra pagina dare ancora più informazioni c'è però da dire una cosa molto importante che introduce un argomento sempre più importante all'interno dello sviluppo web è che l'h group può eliminare la possibilità per alcuni screen reader di leggere delle informazioni all'interno della nostra pagina web uno screen reader è un dispositivo un software che legge contenuto delle pagine web per le persone che non sono vedenti l'h group organizza la pagina ma dall'altro lato elimina l'accessibilità questo cosa vuol dire che il nostro sito non sarà accessibile da persone che hanno comunque possibili problemi di vista quindi perdiamo accessibilità e l'accessibilità è un elemento sempre più fondamentale all'interno dello sviluppo web non possiamo permetterci di non avere un sito che sia accessibile quindi sta a noi decidere come comportarci io consiglio di non utilizzare questo questo tag l'accessibilità è un aspetto troppo importante e noi possiamo risolvere questo problema semplicemente posizionandolo come h3 e h4 h3 h4 possiamo risolvere il problema in questa in questa maniera andiamo a continuare personalizzare il nostro articolo per vedere altri tag che ci possono essere davvero utili un altro tag che si può utilizzare è sicuramente il tag time e time ci permette di inserire quella che è appunto una data quindi magari mettiamo oggi che è il 23 giugno giuguno giù basta giugno del 2021 e andiamo poi a inserire quello che è un attributo date time che serve a ottenere veramente la data in cui devo andare a mettere 23 01 2021 questo fornirà ancora più informazioni alla nostra pagina web gli permetterà di accedere al tributo dei time e ottenere appunto una una data vedete continua a trattarsi solo di fornire continuamente delle informazioni il più possibile corrette per dare sempre più motivi perché la nostra pagina venga trovata un'altra cosa che posso sicuramente fare per dare ancora più informazioni e se magari volessi rendere questa citazione qualcosa di via parte che magari riassume l'intero articolo posso dire all'interno di un elemento site all'interno elemento blog quote con le q potere il latino è super utile wow posso andare a salvare otterrò questa cosa magari per un po di spazio così non backup non fa così tanto schifo e posso inserire magari senza magari l'attributo site e dire che questa roba arriva da hpv.it ad esempio learning ma ho un link o un collegamento più collegamenti creo più la mia pagina comunque girerà sarà collegata ad altre pagine avrà un rimando magari vedranno che gli ocitati mi citeranno a loro volta insomma creiamo tutta questa rete di collegamenti che è veramente alla base di quello che è il mondo web iniziano a collegarci con con altre con altre cose con altre realtà questo ovviamente è una cosa a casa questo è il sito in cui potete trovare tutti i nostri corsi ma non c'entra assolutamente niente con quella che è la citazione di questa di questa incredibile citazione se volessi andare a inserire invece quella che è un'immagine anche qua tutto diventa molto molto semplice mi basta appunto andare a inserire il tag img che così come il tag meta si chiude nel momento in cui viene aperto perché non ci interessa posizionare cose all'interno di questi tag ma utilizzare i suoi attributi il primo sarà search in cui andremo ad inserire quello che può essere o il link a un indirizzo web quindi posso andare tranquillamente su google immagini adesso immagini prendere questa roba qua di copiare l'indirizzo dell'immagine e posizionarlo quando la cosa più comoda nel mondo ma adesso tornando qua dovrei avere il mio simbolino di google oppure posso tranquillamente utilizzare quella che è un'immagine di cui io sono già in in possesso quindi posso trascinare all'interno della mia cartella una mia immagine quindi prenderò questo logo lo trascinerò all'interno avrò viso studio come vedete io già qua inizio a vederlo non appena nel source andrò a scrivere logo o però logo h4 l punto png vado a salvare la messa qua ok forse un po un po grossina posso risolvere questo problema semplicemente dicendo che voglio che abbia una wif di 400 e di 400 vado a salvare e l'immagine diventa abbastanza più sensata magari mettiamo 200 e lo facciamo seguire di nuovo da 200 e otteniamo un immagine che è realmente sensata come te posso utilizzare questi attributi per far sì che questa immagine abbia questa forma un'altra cosa molto importante che non mai dimenticare degli attributi di mg e che esiste alt e che dobbiamo assolutamente scrivere alt serve a quei famosi scrivere per descrivere quello che è l'immagine che l'utente sta tra virgolette vedendo in modo che possa capire cosa stia suggerendo di cosa parliamo quindi luogo della pagina di hp v for learning learning for learning questo permette sia appunto a uno screen reader di leggere questo valore ma anche qualora appunto la mia sorgente fosse errata quindi mettiamo caso che io crea una cartella con questo comando posso creare una cartella e la chiamo trascinarsi queste immagini quando entrò nel momento in cui succede vedete che l'immagine non fa più parte non è più la sorgente corretta dell'immagine ottengo questo simbolino dell'immagine però o questo testo quindi mi fa capire quell'immagine comunque parla di questo mi salva in corner devo assolutamente rimettere la situazione a posto mi basterà aggiungere qua davanti image salvo e riottengo la mia bellissima immagine proseguiamo con quella che l'organizzazione della nostra pagina riprendendo quello che abbiamo visto nelle grafiche iniziali e sotto la nostra sezione non andiamo a dichiarare quello che è una side tag la side tag serve a includere tutti quei contenuti che effettivamente non è che facciano parte esattamente della pagina ma siano contenuti appunto correlati come le ultime novità l'ultima foto uscita sul profilo instagram gli ultimi tre articoli usciti dove noi andiamo inserire tutta questa serie di informazioni quindi magari abbiamo inseriamo quello che è un div altro non è che chiamiamolo un contenitore vuoto che di per sé non ha niente al suo interno infatti come vedete non è successo assolutamente niente e non è percepibile quindi a livello di occhio però serve a contestualizzare che andremo inserire al suo interno dire che quegli elementi fanno tutte parti di quel contenitore comunque fanno parte sono aggruppate all'interno di cui il contenitore vuoto senza che abbiano un preciso scopo ovviamente io qua potrei riempire tutto di div questo potrebbe essere tranquillamente un div così come la section potrebbe essere un div come potrebbe essere un div però poi dopo non si capisce più niente il codice diventa anche abbastanza illegibile e comunque credendo e scherzando noi abbiamo già scritto una settantina di righe di codice e abbiamo a malapena creato questo tipo di di struttura niente di più complesso quindi questo che capire perché è molto importante a rendere il codice reggibile questo perché se io poi visitarsi il codice sorgente che si fa con contro vedete che ottengo questo tipo di informazioni e come vedete super leggibile quello che che c'è all'interno uno può anche questa parte di codice è tutto ciò che si occupa di far sì che la pagina automaticamente venga rifresciata ogni volta che noi salviamo nel niente di incredibile ma continuiamo con lo sviluppo del nostro aside dove non metteremo altro che metteremo un altro article con una scritta un pochino più piccola ho scritto scopri i nostri ultimi articoli che dovrebbe essere qua vedete che più piccolo degli altri degli altri elementi e sotto andremo a metterci a metterci un bel details con un summary quindi un riassunto che scriviamo al latino con le novità le novità e poi qua ci metteremo un bel article con un bel lorem 21 ecco vedete otteniamo questo questo tipo di di scrittura in cui abbiamo questa classica tendina che possiamo aprire con dentro il contenuto in più volessimo essere un pochino più organizzati e avere una visione del codice ancora più bella soprattutto quando andiamo a bisognare la sorgente è quella di utilizzare questo tipo di di commenti e semplicemente magari andiamo nella sezione sotto leder e diciamo aprendo il nostro simbolo di minore punto esclamativo trattino trattino e ci darà questo tipo di tag e questo ci serve a creare del codice di commento quindi codice che non viene visto quindi se io qua crearsi semplicemente un p no e scrivessi grosso paragrafo quella scresi cosa abbia scritto come vedete io non lo vedo da da nessuna parte però se vogliono il codice sorgente vedo che ho scritto esattamente questa roba qua io non ho bisogno di ovviamente di dichiarare p di paragrafo per fare questo magari posso scrivere inizio barra di navigazione arrivo qua magari e metto un bel fine navigazione come sostiene così navigazione vado nella sezione quali dico inizio articoli salvo in questa maniera il codice poi risulterà molto molto più ordinato se vado adesso vedere appunto il mio codice sorgente ho questo tipo di divisione e per qualcuno che legge il mio codice questo diventa molto appetitivo rispetto a una matassa di questo tipo quindi magari copia questo commento me ne vado alla fine degli articoli metto fine articoli fine articoli e organizzo il mio codice in questa in modo che sia sempre leggibile perché magari all'inizio sarete solo voi ma presto comunque non sarete da sole a scrivere il vostro codice ma sarete più persone magari uno si occuperà solo di fare la barra di navigazione l'altro farà il titolo quindi essere in grado di rendere il codice più leggibile possibile tutte le persone che lavorano con voi è sicuramente una delle vostre priorità l'ultimo elemento che ci manca per completare quella che è un'organizzazione molto basilare della nostra applicazione la chiama applicazione ma chiama la nostra pagina web intanto è tirare fuori la side dal main perché non fa parte il nostro contenuto principale numero uno vedete non è assolutamente cambiato niente e dopo di che è quella di creare quello che è un bel footer è un footer altro non è che il piedi pagina però questo non è che c'è solo alla fine della della pagina cioè può esserci ovunque un footer io posso prendere questa roba qua e dentro il mio article e posso anzi andare a inserire magari proprio all'interno di questo footer ad esempio tutta questa serie di informazioni che sono alla fine del mio articolo ed è anche questa comunque buona prassi un articolo che rimane sempre più organizzato il footer non è un elemento esclusivo del dell'intera pagina non rappresenta solo il piedi pagina rappresenta chiamiamolo la fine di un determinato contenuto in cui voglio dare delle informazioni aggiuntive e solito all'interno di questo footer sono contenute una serie di informazioni come ad esempio magari un ul che ha dei li che ha dei li in cui che questa volta farò esattamente questo gioco qua abbiamo numeri di telefono fac dove siamo o niente ora i di aperti 77 dalle 19 dalle 19 9 00 al 19 ad esempio no uno si trova questi elementi al fondo della prima pagina e poi magari immaginato di poterlo mettere a fianco cosa che noi al momento non possiamo fare potrebbe avere quello che uno small con scritto diritti riservati del mio blog volendo uno può aggiungere questa ricitura e questo creerà il classico elemento del copyright volessimo dare un pochino più di ordine scheletro alla nostra al nostro articolo quello che potremmo sicuramente fare il nostro articolo alla nostra pagina è quella di iniziare a mettere un po di separazione innanzitutto forse togliere il 300 per potrebbe aiutarci vedere un po meglio come la nostra pagina che si presenta esattamente così volesse avere della separazione tra quello che è un articolo dell'altro posso utilizzare il tag hr che si chiude dove si apre e creerà una linea di separazione ok questo può semplificare rendere meno brutto il nostro articolo magari in maniera molto banale copio tutta questa roba e la vado a posizionare anche nell'altro articolo in modo che gli articoli che sono simmetrici e ricordano più il fatto di essere due articoli che parlano di cosa mentre parlando la stessa cosa volessi invece avere più spazio tra queste sezioni che così non mi piace come come è organizzato voglio più spazio quello di cui ho semplicemente bisogno è di andare sotto la mia data dove termine a questo footer termine l'articolo termina la section termine main e io prima che termini il menu vado a posizionare un tag br che serve ad aumentare lo spazio ne voglio ancora di più posizionerò un altro br questo tag si può utilizzare anche per andare a capo mettiamo caso che io volessi andare a capo dopo che ci c'è la parola ea room il posizione un tag br in questa posizione salvo e adesso lui andrà a capo ok così continuano essere bellissimo ma è comunque meno brutto di prima semplicemente utilizzando un po di spazio vedete quanto le cose possono possono scusatemi migliorare magari dove inizia la sezione degli articoli andiamo posizionare due dei br anche qua salviamo e ora tutto funziona un pochino meglio possiamo anche andare a posizionarne uno e separi i due articoli in modo da poter giocare in maniera un pochino più dinamica con i nostri articoli avere un pochino più di space in che rende tutto sempre più carino ok questa è la pagina che abbiamo creato al momento ci manca solo una cosa iniziare a collegarci con altri altri link altre pagine quindi se io volessi ad esempio che qualcuno potesse andare a vedere questa citazione sul sul mio sito faccio ok però io vorrei che questa persona possa accedere a questo link è quello che posso fare semplicemente è di posizionare magari al di sotto del mio date time un bel tag a cosa all'interno scopri autore facciamo così l'autore e utilizzare l'attributo e href e href è un tributo che accetta quello che è un link quindi se io andassi a prendere questo indirizzo lo posizionarsi all'interno delle cf salvarsi ottengo questo link premo su scopri autore e lui mi porterà a questa incredibile pagina torno indietro ma io vorrei che l'utente non uscisse dal mio sito non sono altro link per fare questo utilizzerò un altro attributo che si chiama target underscore utilizzerò blank vado a salvare adesso l'utente premendo creerà una pagina nuova e non uscirà dal mio sito cosa che può essere d'aiuto è molto importante per far sì che l'utente non vada da un'altra parte e ovviamente posso collegare anche un'altra pagina per fare questo mi basterà semplicemente creare un nuovo documento che chiamerò about punto html e questa volta utilizzeremo una scorciatoia da tastiera punto esclamativo ci verranno date queste due opzioni con tre punti esclamativi otterrò doc type solo html con un punto esclamativo premendo poi enter otterrò tutta questa serie di tag all'inizio che semplicemente si occupa di creare in automatico quello che io ho creato qua manualmente quindi ho già tutto creato adottare qua about e come cosa principale ci sarà solo h3 anzi bella h1 con sono la about page virgola torna alla ok salvo vado sulla mia index page e dove ho la mia navigazione con about io non avrò solo un lì ma all'interno di questo lì avrò un bel è ancora tag perché si chiama è ancora tag in cui avrò un bel hrf con scritto html scrivo qua dentro about salvo adesso questo link è blu tremo e andrò alla mia about page ho collegato due mie pagine posso poi anche tornare indietro in questo caso non ho bisogno di un target di tipo blank perché sono sempre sul mio sito non me ne frega niente che apre un'altra pagina anzi diventerebbe un incubo ogni volta che uno si sposterebbe da una parte all'altra e come vedete non appena uno tocca naviga su questo sito diventano viola da blu diventano viola perché ricordo l'utente che è amico ci sei già stato su questo link ovviamente non è solo il testo che può essere un link io posso inserire esattamente nella stessa maniera anche un immagine e far sì che essa sia un link quindi posso dire che href utilizziamo di nuovo abba about punto html vado a salvare a questo punto secondo utente premerà su questa immagine mi porterà alla mia about page con questo praticamente abbiamo creato la nostra prima pagina e vi sembra un qualcosa di banale ma questo invece non è l'html è la base per creare tutte le pagine non esiste un altro modo cross platform per creare dal niente questi elementi e organizzarli tutto quello che manca è l'aspetto grafico e interattivo ma che va a migliorare l'ossatura di questa pagina cioè qualsiasi altra tecnologia e funzione che si applica al web va semplicemente a migliorare questa ossatura ma questa ossatura sarà sempre presente e sarà sempre il punto di partenza della vostra della vostra pagina web e senza accorgerci abbiamo scritto 123 righe di codice e poi potremo aggiungere molte altre informazioni utilizzando molti altri tag e come potete vedere a questo punto arrivati a questo punto scrivere html semplicemente non non ha della logica matematica o algoritmica dietro ma detto in maniera molto riassuntiva si tratta di imparare a memoria questi tag e organizzare quella che è la nostra la nostra pagina nella maniera più profonda e più corretta possibile e più descrittiva possibile per il resto e solo utilizzare tutti da che ci servono per ottenere quel determinato elemento volessi ad esempio far sì che questo scopre l'autore fosse fatto tramite un bottone quello che devo fare semplicemente è nel mio h tag andare a posizionare quello che è un bottone scopre l'autore salvo e adesso premendo vado da un'altra parte no è cambiata solo la forma però ho creato un bottone mentre scrivendo button senza avermi preoccupare di come questo funzioni di perché cliccando vado da un'altra parte di come il computer percepisca il mio click questo non me ne devo assolutamente preoccupare con l'html stesso discorso vale per tantissimi altri elementi e la domanda che a sto punto vi sarete facendo essi i miei osti tag do ritrovo e adesso andiamo esattamente a vedere quello spostiamoci sul nostro browser e per farlo in maniera molto breve anzi per una finestra nuova scriviamo tag html e noi poi avremo due opzioni che io utilizzo la prima è indien che è sicuramente è la mia preferita in cui navigando io posso avere accesso a tutti quelli che sono i tag poi starà semplicemente a me scoprire quello che che il funzionamento di questi tag utilizzarli nella maniera corretta per ottenere il risultato di cui di cui ho bisogno non c'è niente che che effettivamente vada ad impedire il tag per il video tag per gli svg per operazioni matematiche insomma ce n'è di tutti e di più per creare delle tabelle per creare dei dei form quindi ad esempio volessimo vedere come fare un form ci basta entrare all'interno di quello che è un form entriamo all'interno del nostro form ne vediamo un esempio ci spiega come funziona che attributi a cosa funziona ancora quali attributi sono stati tolti e vediamo di quali elementi si compone qua abbiamo un un esempio che andiamo esattamente a replicare questo questo esempio che ci porterà ad avere questo risultato quindi andiamo nel nostro codice html abbiamo capito che ci servono un form una label che rappresenta un etichetta quindi sarà questo e lo collegherà a quello che è un input noi sappiamo che abbiamo bisogno anche di avere informazioni su quelle che sono una label e un input torniamo indietro a non vedere label e input vediamo a cosa serve leggiamo cosa serve quali elementi a che variazioni può può avere stesso discorso vale per il nostro input ci dice che ha l'attributo type e esistono una grande varietà di tipologie quindi se volessi una mail in cui sarà possibile solo scrivere delle mail volessi caricare un'immagine numeri password insomma chi più ne ha più ne metta quindi andiamo sul nostro primo blog torniamo da queste parti e immaginiamo di voler avere nel nostro nella nostra sidebar un forum in cui uno si iscrive alla nostra news lettere quindi andiamo all'interno del nostro a side e diciamo che fuori da questo article abbiamo intanto un bel br abbiamo dello spazio e poi abbiamo un un h5 dove premendo tab otterremo una 4 scusatemi scrivendo solo h4 terremo premendo tab direttamente il nostro tag iscriviti alla nostra news letters ok e sotto andremo replicare quello che era quel tipo di struttura quindi avremo il nostro form la nostra label in cui possiamo o inserire il nostro input in questa posizione oppure come ci dice la documentazione avere l'attributo for form diciamo email chiudiamo direttamente la nostra label scriviamo inserisci mail poi avremo il nostro bellissimo in tutto in cui abbiamo l'attributo type abbiamo visto che ci sono diverse tipologie in cui se io andassi a posizionare ad esempio password chiudessi il mio input e andassi a salvare tornando su il mio primo blog adesso ho questa roba in cui scrivendo vedete che semplicemente sto digitando una bella password invece andassi a posizionare email email posso andare a scrivere quella che è un email quindi ho spazio per del testo non ho salvato quindi adesso cosa non è successa posso andare ad ammetterci del testo perché è importante scrivere mail perché io qua posso andare a definire un button type submit che è un bottone specifico per i form e servono per inviare i form dovevo iscriverti se io può scrivere esempio banana lui mi va a dire che aggiungi una mail non deve essere valida però sicuramente mi fa un primo controllo quindi banana e mi dice ok devi mettere un po dopo banana scherzi hhh e vado ad iscritti lui in questo momento subito al form non controlla che quella mail funzioni veramente e qui entra in gioco poi quello che è javascript ad esempio questo è un esempio molto banale di quanto sia veloce appropriarsi di alcuni informazioni volessi descrivere ancora di più è meglio quello che il mio input vado a posizionare una id in questo elemento in cui vado a inserire anche qua email che deve essere lo stesso a cui fa riferimento l'etichetta così che questi due siano collegati e poi possa andare inserire altre tv di come ad esempio name dico dico email ok ho questo tipo di possibilità posso inserire quello che è un da capo magari un play soldier in cui metto inserisci mail no è uno qua a la scritta in questa maniera dove mentre cliccando non succedente provate che mi apre già in questa maniera avendo dato informazioni maggiori la possibilità di avere un autocompletamento no quindi vedete come diventa estremamente semplice appropriarsi di quello che è altra conoscenza da parte del nostro html volessi avere un accetta le condizioni allora io a questo punto vado ad avere un label con che for poli size tratta né trattamento dei dati e qua sotto o semplicemente un tutto di type check box salvo e ottengo vedi a tempo accetto trattamento dei dati volessi andare a capo mi basta semplicemente andare a essere questo all'interno di un bel div così questa roba qua non sarà tutta di fila vado a capo accetto il trattamento dei miei dati diventa tutto tutto molto molto semplice non ho niente che che mi impedisce di andare a prendere un altro elemento che che può esserci in questa posizione vogliamo disegnare una tabella disegniamo una tabella sopra i nostri articoli in questa section magari noi avremo un'altra section anzi di sotto di questa section dove magari posizioniamo un bel pr hr seguito da un altro br dove andiamo a inserire quella che è semplicemente una bella tabella e vado a creare la mia bella tabella quindi vado a definire table poi vedo che quale altra possibilità tibati on the foot on the head che meramente rappresentano di nuovo il footer il body led e come vedete questo schema comunque torna quindi di nuovo andrò a posizionare quello che sarà un ti ed all'interno del tied andrò ad utilizzare quello che è un tr che un tr rappresenta quello che è una riga dopo di che ho un th che come se fosse l'h1 della tabella diciamo quindi ho un th che rappresenta una scella evidenziata in cui vado a inserire nome metto avere un'altra th che ha un tributo col span che rappresenta quante colonne riempie in cui magari o a grafica scusami in cui o due scusatemi con grafica sotto il tied avrò un bel tibali in cui vado a posizionare un tr questa volta però conterrà un td che è una è una cella della tabella che contiene dei dati quindi metterò nome hpv for learning seguito da quello che è un altro td che ha età 1 un altro td che ha peso 70 cosa che non ha senso però adesso tornando sul mio primo blog come vedete ho creato questa semplicissima tabella non la tabella più bella del mondo però funziona a modo a modo suo esempio qua togliessi questo col span come direte l'allineamento della tabella cambierà in generale vedete questa cosa andrà al di fuori della sua della sua colonna magari qua metto un nome più semplice che rende le cose meno brutte dario vado a vedere dario e dario si allinea in quella posizione se magari volessi avere più spacing nella mia tabella posso vedere se all'interno di table o qualche modo per ottenere questo tipo di risultato quindi vado giù cerco informazioni vedete qua online border se se il padding se il spacing il si passava magari un valore tipo 6 e questo dava dello spazio alla tabella come vedete sia orizzontale sia verticale sembra più ordinata ormai questo è però deprecato sono tutte cose che si utilizzano direttamente dal css si occupa di gestire questa cosa che in realtà è molto meglio volendo che potrei mettere border e dargli uno no e otterrei semplicemente questo tipo di bordo come vedete qua questa cosa è vuota perché no no non ho un'altra cosa se adesso un'altra tabella un'altra cella scusatemi se qua andassi a mettere di nuovo col span 2 ma vedrete prenderò anche l'altra colonna la tabella sarà organizzata in questa maniera per concludere un altro sito che ci aiuta a ottenere praticamente le stesse informazioni e rifacciamo la nostra incredibile ricerca e troveremo invece che mdn scriviamo v3 school e questo è un altro un'altra valida alternativa io capisco mdn ma anche loro sono molto molto chiari magari andiamo a vedere cosa non abbiamo ancora visto come te le abbiamo visti faccio fatica a trovarne questo m qua c'è il vantaggio di avere la possibilità di provarli e non in prima persona avremo questo editor noi possiamo vedere cosa succede le m quello che fa è semplicemente creare un'altra versione del carattere corsivo più inclinata ok e con questo il nostro corso di html si si conclude è per tutti coloro che hanno terminato questo corso volendo io vi lascerò qua in descrizione direttamente poi il link al mio corso completo di css dove andremo a vedere tutta la teoria di argomenti principali di lavorare col testo di immagini il colore animazioni layout creazioni di layout creazioni di griglie chi più ne ha più ne metta per poi andare a trasformare questo scheletro ok in questa bella prima pagina web ok quindi per tutti coloro che volessero direttamente farsi il bel pacchetto html pcs s non preoccupatevi ci penso io